Musica Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla Oggi stiamo andando dal maestro Umberto Miletto Ragazzi buongiorno Ragazzi buongiorno Direzione Torino Torino innevata Guardate quanta neve che c'è a Torino Mamma mia Si fa sciare a Torino adesso Ragazzi ci siamo Siamo nel nostro studio di Umberto Miletto Ci siamo Andiamoci a trovarlo Guardate Siamo pronti Dio Dio ci siamo Grande Umberto Grande Umberto Ci siamo Devo riuscire a incontrarlo Allora ci siamo Sono da sotto Ciao ragazzi Tu veni Grazie Grazie Finalmente Sono riusciti a venire nella tana di Umberto Miletto Quindi non nella tana di Gorilla Dal grande maestro Dal primo Da colui che ha cominciato tutto Adesso devi dirci questa cosa Ragazzi buongiorno Finalmente quando abbiamo sperato di sentire questa cosa Dopo anni ci siamo riusciti a fare un diretto In diretta In diretta In diretta Siamo riusciti Ma ma il pazzesco Adesso vabbè Chiaramente lui Lo conoscete tutti Umberto Miletto Il grande Umberto Miletto Colui che ha portato il Calisthenics in Italia Bene Allora adesso ve li prendo con me qua nel mio studio E li alleniamo Oh ok C'è una bella scheda di Calisthenics Oggi E li massacriamo Oggi ci veramente Ci facciamo il culo Oggi Facciamo una sfida con Umberto Oggi Facciamo un challenge Adesso di sfida Insomma è una studio E facciamo un challenge E non hai detto che salta pure un challenge Vediamo se ci batterà Vediamo se li basso Perché con Emi l'è finita La pareggio Però probabilmente Rivedendo Vabbè meritava lui Oggi vediamo questi ragazzi Oggi ci divertiamo Cosa facciamo? Due esercizi a testa Dai Due esercizi a testa Possiamo scegliere Beh ci può stare Così i ragazzi Possono prendere il punto Esatto Potete chiaramente prendere Questi esercizi che faremo Che potete utilizzare voi Nella vostra scheda A vostro piacimento Aumentare le ripetizioni E quant'altro Sì poi appunto A fine video Metto appunto la scheda Potete scaricare Livello principiante Livello Sì Livello principiante Sì sì Livello principiante Livello easy Sì sì Ok ci sta Ma io esercizi scelgo Bulat E Ice cream maker Ice cream Vai tu Facciamo esercizi di spinta E facciamo Push up E E di E di Allora io faccio Un livello Faccio il mass up Ok E poi facciamo No per le gambe Sì 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Dai Oh Potete avere una bella scheda Di basi Deve prendere spunto E Niente Siamo pronti Questo sarà Ultimazionale Ci siamo Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti